Va bene, direi che possiamo partire. Buongiorno a tutti. Oggi continueremo l'esercizio che abbiamo iniziato la volta scorsa sul gestore corsi, che tra l'altro è un esercizio che usa lo stesso database che avete usato in laboratorio, per il laboratorio 4. Quindi vi aiuta anche questa esercitazione a completare il vostro laboratorio. Il primo punto che andremo a fare oggi in particolare è praticamente lo stesso che viene richiesto anche nel laboratorio. Quindi in un certo senso vediamo anche parte della soluzione del lab. Non so se avete domande su quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Eravamo arrivati a completare la prima parte dell'esercizio, quindi questi due punti che ho evidenziato adesso, che analizzavano i corsi sulla base del periodo didattico. Quindi io rilancio un attimo il programma. L'utente poteva inserire un periodo didattico, uno o due, e poteva ad esempio stampare tutti i corsi del primo periodo, oppure stampare gli studenti iscritti ai corsi di quel periodo didattico. Questo è quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Vedendolo adesso, mi viene da dire che la stampa fa abbastanza schifo. Potremmo come prima cosa di oggi andare a migliorare un po' la stampa qui in questa area di testo, cosa che ci servirà poi anche per il secondo punto. Allora, si vede soprattutto qui dove abbiamo due informazioni messe in riga, ma non allineate in colonna, e quindi diventa quanto meno difficile da leggere. Allora vorremmo poter stampare magari le informazioni del corso bene incolonnate e con un'ultima colonna, in questo caso, che visualizzi il numero di studenti. Come possiamo fare? Allora, veniamo qui, è un'operazione sull'interfaccia grafica, quindi andiamo nel nostro controller. Eccoci qua. Ok, Federico chiede, il prof potrebbe aumentare la dimensione del testo? Certamente, ecco qui. Ok, la stampa che facevamo era qui, in sostanza, questo per il primo bottone. Facevamo una semplice append text e quindi tutto rimaneva così brutto da vedere. Come possiamo fare? Beh, potremmo utilizzare, costruirci man mano una stringa ben formattata e poi stamparla solo, solo alla fine con un append text finale, un'unica append text finale. Come possiamo fare? Beh, possiamo usare un oggetto chiamato string builder, che come suggerisce il nome è un oggetto per costruirsi una stringa. E poi possiamo scorrere di nuovo, ovviamente, i corsi che abbiamo ottenuto come risultato, quindi il foro ovviamente ci sarà di nuovo, il foro corso C in corsi. E qui al posto di appendere all'area di testo, appendiamo al nostro string builder. Che cosa possiamo appendere? Beh, è un po' quello che vogliamo, in questo caso supponiamo di voler avere una colonna per ogni informazione del corso. Ebbene, posso fare sb.append, all'interno ci posso appendere un po' quello che voglio. È vero che potrei anche fare così, ad esempio getCodings. Facendo così però ritorniamo nel caso di prima, cioè sto appendendo a uno string builder del testo non formattato e quindi le colonne non ci sarebbero comunque. Possiamo usare allora il metodo format della classe string, string.format. Che cosa ci permette di fare questo metodo? Forse l'avete già visto. Di specificare un formato come primo argomento. Vedremo che adesso andremo a specificare, ok, voglio incolonnare i miei dati, con dei placeholder. Questi placeholder possono essere poi valorizzati, riempiti con i parametri che vengono dopo, dal secondo in avanti. Quindi non accetta solo due parametri, ma potenzialmente anche più di due, a seconda del numero di placeholder che mettiamo qui nel formato. Va bene, definiamo il formato. Per esempio, vogliamo avere, ad esempio qui, la prima colonna per il codice del corso, c.getCodings. Come facciamo a specificare a Java di incolonnare il testo? Possiamo utilizzare questo formalismo. Per cento, indica, ok, qui andremo a mettere un placeholder. Un meno ci indica che tutto quello che andremo a mettere qui in questo placeholder va allineato a sinistra, ok? Quindi allineamento. Un numerino che identifica lo spazio che questa colonna dovrà avere. Noi sappiamo che il codice di insegnamento non può superare gli otto caratteri, o i sette, mi sembra sette caratteri. Quindi direi che otto spazi possono essere sufficienti. Questa colonna sarà larga otto, indipendentemente dalla grandezza di questo Codings. E poi ci mettiamo il tipo di dato che andremo a inserire, in questo caso una stringa. Abbiamo creato una colonna di otto spazi allineata a sinistra, in cui andiamo a inserire una stringa, il codice inserimento. Alessio chiede cosa serve almeno a dire che quello che scrivo va allineato a sinistra, altrimenti verrebbe allineato a destra di default. Quindi allineamento, numero di caratteri. Poi posso fare la stessa append per i vari campi del mio corso. Ad esempio potremmo prevedere una colonna di quattro spazi che stampi un numero intero per i crediti. Stessa cosa possiamo fare per il nome. In questo caso il nome può essere molto lungo. Facciamo una colonna di 50 spazi, una stringa, dc.get nome. Enrico chiede il percento, il percento è un po' come il punto interrogativo nelle query SQL. Semplicemente sta a significare, va a dire al compilatore, guarda che qui andremo a sostituire questo con quello che viene dopo. In questo caso il nome. È il carattere che indica che lì c'è un placeholder, che va riempito con qualcosa. Nome la stringa, l'ultimo campo è il periodo didattico, che di nuovo mi sembra un numero, sì. Facciamo una colonna da quattro, dovrebbe bastare, tanto è un numero uno o due. C'è un altro commento in chat, perché non mettiamo più placeholder nella stessa string punto format? Sì, si può fare anche così, io ho diviso così per rendere più leggibile, ma ovviamente potremmo avere un unico string punto format, sì. Non cambia niente. Magari ci aggiungiamo qui uno slash n per dire dopo questo vai a capo. Va bene? Quindi mano a mano che il for gira, noi costruiamo la nostra stringa e la andiamo a inserire nella textarea solo alla fine. Quindi txt risultato punto append text sb punto to string. Ci sono alcune domande? Matteo chiede, e per un unico string punto format come metto le informazioni? Beh, semplicemente avrai più placeholder qua, ad esempio supponiamo due colonne, e metti i parametri in fila. Come detto prima, questa funzione accetta potenzialmente n parametri, ok? E via via, però io preferisco metterne una per riga, per leggibilità, diciamo così. Però è assolutamente lecito avere un unica string punto format. Giuseppe chiede, d sta per intero? Esatto, d sta per intero. Significa in questo placeholder andremo a inserire un numero intero. Beatrice chiede perché ci sono due gnome, perché c'è un errore? Grazie, quindi qua è get per ipd. Alessio l'ultimo, ok, l'ultimo ipd, perfetto. Giorgia chiede, scusi io non ho capito l'utilità di usare string builder, non possiamo creare semplicemente una stringa e modificarla con punto format. Non ho capito bene cosa intendi. Lo string builder ha dei metodi in più, che ad esempio l'appende, che ci permettono di costruire mano a mano la stringa con dei metodi leggibili, piuttosto che andare a fare il più uguale, che poi è fonte di errore, invece così sappiamo esattamente cosa stiamo facendo. Poi sicuramente si potrebbe creare la stringa a mano, però così è più standard, diciamo così. Lorenzo, la differenza tra uno string builder è un più uguale, quella che ho appena detto, nessuna differenza sostanziale, però così è più chiaro, usiamo dei metodi appositi e rischiamo meno di fare errori. Stessa domanda da Giorgia, quindi ho già risposto. Francesco, non ho capito il significato dei caratteri dopo il per cento, gli ripeto, questo indica allineamento a sinistra, cioè il testo che andremo a mettere qui dentro sarà allineato a sinistra della colonna e l'otto indica la dimensione massima di questo campo, quindi riservo otto caratteri per la prima colonna, in questo caso. Manuel chiede, gli spazi tra i get ci sono in automatico? No, grazie di avermelo fatto notare, bisogna prevedere di aggiungere uno spazio al fondo. Questo problema non c'è se noi usiamo un'unica string format dove avremmo lo spazio tra i vari placeholder. Va bene, direi che ci siamo, facciamo una prova, lancio. Scrivo uno, stampo, come vedete è migliorato un po', ma fa ancora abbastanza schifo, cioè non siamo riusciti ad allineare le colonne. Perché? Perché purtroppo questo è un problema della textarea, se voi provaste a stampare il contenuto dello string builder nella console, tutto funzionerebbe bene. Purtroppo la textarea di JavaFX è impostata in modo tale che non riconosca questi placeholder. Ok, c'è un modo semplice di cambiare questo parametro, chiamiamolo così, della textarea. Dobbiamo specificarne il tipo di carattere che la textarea va ad accettare, lo stile del carattere in particolare. Quindi dobbiamo aggiungere txt risultato, la nostra textarea, punto set style. Penso si possa fare anche da SimBuilder, ma non ho provato, l'ho fatto solo lato codice. Gli andiamo a dire che meno fx, meno font, meno family. Cioè la famiglia di font che questa textarea deve utilizzare è monospace. Prendetela per buona, in questo modo riusciamo ad utilizzare nel modo corretto i nostri placeholder. Se io ora lancio il programma, stampo, ad esempio, secondo periodo didattico, eccolo qua, vedete? Il font è cambiato un pochino, però adesso le colonne sono a posto. Quindi questa informazione qui la potete usare anche per il laboratorio. Dobbiamo fare, cambiare questo attributo, questo parametro, la font family dell'area di testo per poter stampare in questo fondo, in colonia. Ovviamente basta farlo una volta, io l'ho fatto qua dentro, ma potete farlo anche quando lanciate il programma. Funziona lo stesso, anzi sarebbe addirittura più corretto se noi lo mettessimo, ad esempio, nel metodo di set model, ad esempio, che viene chiamato una sola volta all'inizio. Stessa cosa possiamo fare, sì, Alessio chiede, si potrebbe fare nell'initialize anche, stessa cosa possiamo fare poi per la seconda stampa, volendo, va bene? Quindi in questo caso stampavamo da una mappa e quindi anche qui possiamo avere uno string builder, costruircelo mano a mano e poi stampare sullo string builder. Non lo faccio per questioni di tempo, però potete provarci anche voi. Magari lo faccio poi prima di caricare, di fare il push della soluzione. Va bene? Se non ci sono domande, possiamo andare avanti e vediamo cosa chiede il secondo, la seconda parte dell'esercizio. Punto 1. Elencare tutti gli studenti di un determinato corso. Quindi l'utente inserisce il codice di un corso all'interno del programma e il programma stampa la lista degli studenti. Mi sembra che questo sia un punto che ci sia anche nel laboratorio, quindi è interessante vederlo insieme. Come sempre, ragioniamo prima sulla query da fare, la proviamo sul nostro client e poi la trasportiamo in Eclipse. Che tabelle ci servono in questo caso? Allora, l'utente inserisce un codice di un corso, il programma ne stampa tutti gli studenti iscritti. Ci basta una singola tabella? Abbiamo bisogno di più tabelle, quindi di una join? Abbiamo bisogno di una join, come dice Francesco. Perché? Perché dobbiamo stampare gli studenti con tutte le loro informazioni e quindi la tabella studente ci serve, ma dobbiamo anche avere l'informazione relativa al corso, perché noi partiamo dal corso. Questa informazione nella tabella studente non c'è. Dove la possiamo prendere? Dobbiamo arrivare fino alla tabella corso o ci basta iscrizione? Ci basta iscrizione, come dice Manuel, perché noi inseriamo solo il codice, codice è qui, quindi ci possiamo fermare qui. Va bene, allora apro. No, ho aperto il programma sbagliato, scusate. Apro SQL Pro. Mi vado a collegare. scelgo il database, iscritti corsi e proviamo a fare questa query. Allora, le informazioni sullo studente le vogliamo tutte, giusto? Quindi select, diciamo innanzitutto le due tabelle, quindi from studente s, iscrizione i. dello studente dicevamo ci prendiamo tutto, quindi s.matricola, virgola, s.cognome, virgola, s.nome, virgola, s.cds Non abbiamo bisogno di informazioni sul corso, il corso lo usiamo solo per filtrare gli studenti, quindi direi che lì siamo a posto, where, come prima cosa, abbiamo la clausola di join, quindi s.matricola uguale i.matricola. Abbiamo ancora un filtro aggiuntivo, il filtro è voglio gli studenti di un determinato corso, and questa informazione è nella tabella iscrizione, quindi i.codins uguale qui in Eclipse andremo a mettere un punto interrogativo, qui cerchiamoci un codice di un corso magari, quindi vado a vedere il contenuto della tabella, prendiamo il primo codice a caso, lo copio, ritorno nella query e lo incollo qui. Dobbiamo lanciarla, vediamo che tutto funzioni, direi di sì, mi stampa 235 righe, che dovrebbero essere tutti gli iscritti al corso con questo codice. Benissimo, la prendo, se non ci sono domande, questa query mi sembra abbastanza facile, anche se c'è una join, però non è così complicata, e torniamo qui. direi di adottare il solito approccio bottom up, io mi trovo bene con questo, ma va benissimo anche lavorare partendo dal controller. io parto però dal DAO. Allora, qui ragioniamo, ci serve una classe studente DAO? È meglio averla? non lo so, qui è vero che recuperiamo degli studenti, però comunque partiamo sempre anche da un corso, quindi non c'è una risposta giusta o sbagliata. va bene entrambe le soluzioni. Potremmo prevedere una seconda classe studente DAO, ma possiamo anche inserire questo metodo direttamente nel corso DAO. Per semplicità inseriamolo qua. Che dati si scambiano? Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Il mio programma e il database. Qui entra in gioco il pattern RM. Abbiamo bisogno di che cosa? Di una? Lista di studenti, come dice Alessandro. Esatto. Di una lista di studenti. Una classe che non abbiamo ancora. Esatto, Mario dice una classe studente. Facciamo finta di avercela, ok? Studente. Chiamiamo questo metodo get studenti. By corso. Riceverà dei parametri. Sì, posso ingrandire, scusate. Riceverà dei parametri questa funzione? Beh, direi di sì. Il codice di un corso. Qui abbiamo anche qui varie alternative. La volta scorsa come parametri utilizzavamo sempre degli interi perché erano degli attributi semplici, il periodo didattico. Qui, di nuovo, potremmo usare una stringa direttamente per identificare il codice del corso. Oppure potremmo anche pensare di avere un parametro che identifichi tutto il corso e poi noi andiamo a prenderci l'id di questo corso. Questo dipende da cosa ci facciamo passare dall'esterno. Visto che la volta scorsa abbiamo utilizzato degli attributi semplici, diciamo così, stavolta possiamo vedere questa soluzione in cui il parametro è direttamente il corso. Forse è anche più leggibile, perché qui stiamo ragionando a partire da un corso. Va bene, prima di continuare direi andiamo a crearci questo Java Bean, questa classe studente. Queste classi stanno nel package model, così come abbiamo creato corso la volta scorsa. Andiamo a crearci una classe che chiamiamo studente. Ingrandisco, che campi ha? Esattamente i campi delle colonne della tabella. Quindi abbiamo un private integer matricola, un private string nome, un private string cognome e un private string cds, corso di studi. Vedete che ho chiamato esattamente i miei attributi, così come le colonne. Poi questi Java Bean, abbiamo detto, se seguiamo il pattern, devono avere il costruttore. Lo faccio generare le clips, source, generate constructor, using fields, con tutti i campi, per creare oggetti di tipo studente. E poi, importante, occorre avere anche i get reset. Anche questi me li faccio generare. Tasto destro, source, generate get and set di tutti i campi. Se prevediamo poi di inserire oggetti di tipo studente in strutture dati che utilizzino funzioni di hash, e non possiamo mai sapere, potenzialmente potremmo farlo, è bene definire sempre, anche ridefinire sempre. L'abbiamo imparato, l'hash code e liquors. In questo caso, ripeto per l'ennesima volta, con il pattern ORM è molto facile sapere su che attributi definire questi metodi. Basta selezionare la chiave primaria della tabella, che è quella che sappiamo identificare univocamente ogni studente. La chiave, la matricola, genera, bene, questo è il nostro java bin, studente, direi che non c'è niente di nuovo. Torniamo nel DAO, se non ci sono domande, e adesso possiamo importare questa classe, import studente. Il pattern è sempre lo stesso, quindi abbiamo prima la query, che penso di non avere più in pancia, no, ce l'ho ancora, l'ho incollata. Solito lavorino di sistemare la query, quindi di togliere le scende, lasciando gli spazi alla fine. E cambiando il nostro parametro in un punto interrogativo. C'è una domanda, Mario chiede, prof, ma se passiamo un oggetto corso al metodo, vuol dire che dobbiamo conoscere necessariamente in anticipo tutti gli attributi del corso per poter fare la query? E no, è qui che vi farò vedere dopo, basterà creare un oggetto corso temporaneo che includa solo l'ID. È un trucchetto con cui si riesce a mantenere un parametro di tipo corso, in questo modo il codice è anche magari più leggibile, ma non ci necessita di andare a prendere tutte ad esempio le informazioni di un corso dal DB. Quindi creiamo un oggetto, diciamo, pseudo vuoto, valorizzato solo con i campi che ci interessano. Lo vediamo dopo quando passiamo dal controller al DAO, dal modello al DAO. Poi, fuori dal try catch abbiamo la nostra lista, in questo caso risultato, una lista di studenti. L'abbiamo chiamata result. New, release, linked list. Per il momento non abbiamo esigenze particolari. Linked list. Importiamola. E poi abbiamo il nostro solito try catch, in cui catturiamo possibili SQL exceptions. Ok? Se tutto funziona bene, fuori dal catch, ritorniamo il nostro result. Qui dentro andiamo a eseguire la query, quindi prima cosa ci facciamo dare una connessione. Dalla classe DB connect. Creo poi un prepare statement, lo vado a copiare da qui sopra, tanto è la stessa cosa. Con la mia query e vado a inserire il mio parametro, st.set. Qui andiamo a inserire una stringa, perché i codici sono modellati, i codici dei corsi sono modellati come string, quindi set string. A differenza dei metodi sopra dove facevamo set int. Uno, abbiamo un solo parametro. corso, corso, punto, getCodings. Lo andiamo a prendere dal nostro corso che ci viene passato dall'esterno. Eseguo la query, copio da qua sopra, result rs, il mio result set, execute query, e poi scorro il mio result set finché c'è uno studente, lo vado a creare e lo aggiungo alla mia lista. Cosa faccio? Mi vado a creare uno studente, studente s uguale new studente, a cui passo in ordine i campi estratti dal database. Quindi rs.getString, la matricola, virgola, rs.getString, sì, getInt, matricola, scusa, grazie Giovanni. GetInt, qui c'è prima il cognome o prima il nome? Beh, non dipende da questo ordine che abbiamo qui, ma dall'ordine che abbiamo utilizzato nella classe studente. Quindi abbiamo deciso di mettere prima il nome. L'importante è rispettare quest'ordine, perché è l'ordine del costruttore. Ok? Quindi qui, dobbiamo andare sul DAO, non abbiamo prima il cognome, ma prima il nome, perché il costruttore l'abbiamo costruito, scusate il gioco di parole, così. Poi abbiamo il cognome, getString, cognome, la rendiamo a capo, e come ultimo campo, rs.getString, cds. Aggiungiamo questo studente alla nostra lista, result.add.s, e mai dimenticarsi di, prima di uscire, chiudere tutte le risorse. Chiudiamo il result set, chiudiamo il prepared statement, e chiudiamo, molto importante, la connessione. Mi insegna un errore, qual è il problema? Int, string, 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 abbiamo sbagliato. No, non avevo solo salvato, scusate. Dovevo salvare la classe studente. Perfetto. Domande su questo? Allora, è buona norma per testare i nostri metodi, che tutto funzioni nel modo corretto, ora questo metodo è abbastanza semplice, siamo ragionevolmente sicuri che funzioni, però per metodi più complicati del DAO, può valer la pena, ad esempio, avere una classe qua dentro, nel package, test DAO, che abbia un main, e con la quale poter testare il nostro metodo. All'interno del main, vado a crearmi un DAO, corso DAO, DAO, uguale new, corso DAO, e poi lo vado a testare, facendo magari anche solo una stampa brutale, ma solo per vedere che tutto funzioni. Ad esempio, DAO.get studenti by corso. Ecco qui quello che dicevo prima. Come faccio a passare un oggetto corso se non ne conosco tutte le caratteristiche? Beh, ne creo un oggetto temporaneo, new, corso, che vado a riempire solo con quello che so, con il parametro che mi interessa. Vediamo un po' la classe corso, come era fatta. Il codice è il primo campo, e poi lascio a null tutti gli altri. Quindi qui, come primo campo, inserisco, ad esempio, il corso che abbiamo provato nella Quiri, e per tutti gli altri campi mi lascio a null. Questo è un modo di mantenere un parametro di tipo corso. Alessandro chiede, non dovremmo anche mettere un controllo nel caso che il corso non esiste, e quindi non ritorna nulla, lo vediamo dopo, quando passiamo al modello. Comunque sì, lo faremo. Questa stampa evito di lanciarla, perché so già che farà schifo, perché la nostra classe studente non implementa nessun toString. Quindi ridefiniamo nella classe studente anche il toString, per stampare in modo decente, almeno leggibile, i nostri studenti. Lasciamolo così per il momento, poi possiamo poi modificarlo in seguito. E proviamo a lanciare questa classe di test. Facciamo tasto destro, run as java application. Quindi non lanciamo il mail del programma, lanciamo solo questa classe qui di test. Vediamo tutto. Vedete che qualcosa stampa. Non sono neanche andato a capo, però vediamo che sembra funzionare. Va bene, mi basta questo. Queste classi sono proprio così temporanee per vedere che tutto funziona. Direi di sì. Allora possiamo risalire e andare su al modello. Mi apro la mia classe model. Il modello, come detto, fa da passacarte. Ritornerà una lista di studenti. Get studenti by corso. Allora qui, noi supponiamo che il controllore conosca poco della logica applicativa. Il controllore vede che l'utente ha inserito un codice di un corso nel campo di testo. Quindi lui conosce la stringa relativa al codice del corso. Ci passerà questa stringa, l'input dell'utente, e sarà il model che creerà questo oggetto corso temporaneo da passare poi al DAO. Return corso dao punto get studenti by corso, new corso con il codice che mi ha passato l'utente e tutti gli altri campi a nulla. Saliamo ancora di un livello, passiamo al controllore. Eccoci qua. È rimasto sotto questo metodo, lo riporto prima dell'ultimo. E qui. Prima cosa da fare, come sempre, prendere l'input dall'utente. Alessandro chiede se posso rimostrare il model, certamente. Eccolo qua. Questo è quello che abbiamo aggiunto. Giovanni chiede, quindi se nella combo box caricassimo i corsi, anziché solo i nomi, è sbagliato logicamente? Qui non stiamo usando delle combo box, forse ti stai confondendo con il laboratorio, se non vado errato. Perché qui l'input, per semplicità, lo facciamo inserire a mano all'utente. Ok. Nella combo box, se la combo box serve per visualizzare corsi, è bene che visualizzi corsi, e non solo i nomi. È logicamente sbagliato che la combo box contenga solo i nomi, perché poi, se tu hai bisogno di riferirti all'oggetto in generale, non hai nessun riferimento verso quel corso. hai solo il nome, dovresti andare a fare un'altra query per recuperarti il corso. Quindi se una combo box visualizza corsi, è bene che la combo box contenga oggetti di tipo corso. Celeste chiede, potevamo mettere come parametro corso-corso, anche qui, e fare il return del corso, se non avessimo creato questo secondo costruttore del corso. Non ho capito, sinceramente, intendo in questo public list studente. Non ho capito la tua domanda, Celeste. Qui ritorniamo studenti, quindi non possiamo ritornare corsi. Partiamo dal corso. Ok, me lo scrivi a fine lezione, così ci capiamo meglio. Torniamo al controller, non so più dov'è, eccolo qui. Francesco, la combo box come fa a contenere oggetti? Di nuovo, è un po' difficile farvelo vedere qua, perché qua non abbiamo combo box, ma quando voi inserite una combo box, esatto, come dice Giovanni, quando voi inserite una combo box, e ne avete il riferimento poi qua nel controller, la combo box può essere tipizzata, quando voi andate a fare la copia del controller dallo sim builder, vi lascia tra minore e maggiore un punto interrogativo. Voi sostituite quel punto interrogativo che c'è con il tipo di dato che andrà a contenere la combo box, come dice Giovanni, combo box in questo caso minore, corso, maggiore. Esatto, Alessandro ha stampato la riga completa. Francesco dice, ma così conterrà tutti gli attributi del corso e quindi risulterà confusionale? No, non risulterà confusionale, tu puoi decidere cosa stampare. Il combo box stampa quello che stampa il two string della classe, quindi il combo box si riferirà a tutto l'oggetto, ma tu puoi stampare solo il nome se nella two string ritorni solo il nome. Questo è il concetto. Perfetto. Andiamo avanti. Riempiamo questo metodo. Quindi recuperiamo l'input, string codice uguale come si chiama, txt corso, txt corso punto get text, o get value get text. Allora, qui abbiamo del controllo dell'input da fare, è già una stringa al codice, quindi direi che non dobbiamo fare nessun parse dell'input dell'utente. Proviamo ad andare avanti, supponiamo che questo sia un codice, c'è una stringa, l'utente può scrivere cosa vuole, e allora possiamo farci dare la lista di studenti dal model, ops, ho sbagliato, get studenti by corso, e qui gli passiamo il codice. Allora, cosa succede se l'utente scrive un codice che non esiste? In questo caso, siamo fortunati, non si scatenano eccezioni, perché stiamo sempre parlando di stringhe, semplicemente questa lista, che è il metodo del DAO ci ritorna, sarà vuota, perché io la vado a creare, è inizialmente vuota, questo while, il result set non conterrà nessun elemento, quindi questo while non farà mai neanche un giro, e quindi il metodo ritornerà una lista vuota, non scatenerà quindi un'eccezione. Qual è il problema? Il problema è che io non posso sapere, con questo pattern qui, se non ci sono studenti perché il corso non esiste, oppure se non ci sono perché, non lo so, il corso c'è, ma è nuovo e non si è ancora iscritto nessuno. Questo non lo posso dire in questo caso. posso controllare if studenti.size uguale o uguale a zero, questo lo posso controllare, ma non posso dire quale dei due casi giustifica il fatto che la lista sia vuota. Allora, cosa vorremmo fare, dire noi? Noi vorremmo dire che se la lista è vuota, vuol dire che il corso c'è, ma non c'è nessun iscritto. Questa potrebbe essere la logica. txt result. punto risultato risultato punto append text il corso non ha iscritti return. Noi vorremmo dire questo. Il problema è che in questo modo noi stamperemmo anche questo messaggio di errore per corsi che non esistono e questo non ci piace. Quindi un controllo dell'errore un po' più strutturato lo dovremmo fare. Cosa dobbiamo fare con questo controllo? Beh, quando l'utente ci dà un codice, controllare se questo codice è associato a un corso esistente. Quindi io qui vorrei poter dire if, me lo dirà il modello sicuramente, model.esiste corso, codice, magari if not, quindi se non esiste questo corso, allora stampo l'altro messaggio d'errore. txt risultato punto append text il corso non esiste. Return. Se invece esiste, vado avanti e mi faccio dare gli studenti. E' chiaro il procedimento? Quindi questo è il vero controllo di errore che dobbiamo fare in questo caso qui. Controllo d'errore che purtroppo ci forza a dover fare una query in più. Adesso qui stiamo usando un approccio top down, quindi parto dal controller e vado giù verso il DAO. Così vedete anche i due approcci diversi. Ho supposto di avere un metodo esiste corso nel model che non ho ancora, e allora lo vado a creare. Lo posso addirittura far creare in automatico dai clips. Ci vado sopra e lui mi propone, crea il metodo esiste corso nel modello. Benissimo. Clicco e lui me lo crea. Ritornerà un booleano, esiste corso dato il codice. Cosa fa? Di nuovo, top down. Supponiamo di avere un metodo esiste corso nel DAO. Return, corso DAO, punto, esiste corso. Ovviamente non me lo suggerisce perché non c'è ancora, non esiste ancora. A cui passo? Beh, se teniamo il pattern di prima, passiamo di nuovo l'oggetto temporaneo corso. Mi dà errore perché questo metodo non c'è ancora. Ci vado sopra e lo faccio creare nel DAO. Ok, sono sceso fino al DAO e qui dentro recuperiamo le informazioni dal database. Direi che questa stringa è molto semplice, non andiamo a provarla prima sul client. Qual è l'idea? Facciamo una select con un determinato, col determinato codice che ci ha passato l'utente e se il result set è vuoto vuol dire che quell'esame non c'è. Se il result set contiene un elemento vuol dire che quell'esame esiste, e quel corso, scusate, non esame. Quindi, string SQL, select, magari maiuscolo, asterisco, prendiamo tutto, chi se ne frega, tanto noi siamo interessati ai vari campi. qui non abbiamo bisogno di nessuna struttura dati per mantenere il risultato e ritornarlo, perché qui ritorniamo solo vero e falso, quindi abbiamo subito il try catch. SQL exception e copio da qua sopra, li facciamo prima. Allora, ci facciamo subito dare la connessione, creiamo il prepare statement e impostiamo il parametro e eseguiamo la query. Queste quattro righe sono uguali al metodo sopra, perché il parametro è lo stesso, quindi le copio, common C, command B. È chiaro questo? Sempre le solite quattro righe. Adesso, cosa ci aspettiamo da questa query? Beh, di sicuro non una lista di cose, perché qui andiamo a prendere un determinato dato specificandone la sua chiave primaria. Sì, il UR è minuscolo, mi dice Alessandro, funziona lo stesso, è solo un modo di rendere più leggibili le query, ma va bene anche in minuscolo. Quindi, specifichiamo la sua chiave primaria, quindi il risultato di questa query sarà o un valore o zero valori. Il while, in sostanza, è inutile. Possiamo utilizzare semplicemente una if. If rs.next, questo metodo ritorna vero se c'è un prossimo risultato, ma usiamo la if perché al massimo ce ne sarà uno. Quindi, if rs.next vuol dire che c'è questo elemento, return true. Altrimenti, return false, perché non c'era nessun elemento in quel result set. Dobbiamo ancora chiudere la connessione. attenzione qui, abbiamo due return, quindi potenzialmente il programma può finire o qui o qui. Allora dobbiamo ricordarci di chiudere le cose sia in un caso che nell'altro. Quindi, rs.close, st.close, con.close. Però queste tre righe vanno anche specificate prima della seconda return. Poi si potrebbe fare in modo migliore, ma questo per farvi capire che se avete diverse return nel vostro programma, nel vostro metodo del DAO, e soprattutto queste return sono inserite all'interno di dei costrutti condizionali, quindi if, else, ricordatevi che non basta chiudere le cose per un ramo del costrutto, perché potenzialmente noi potremmo finire qua dentro e mai passare di qui. Quindi la regola dovrebbe essere chiudo tutte le volte che c'è un return. Ok, ho usato l'approccio top-down, quindi dovrebbe già essere tutto a posto. se ritorno al controller, magari lascio ancora due secondi, se qualcuno è ancora indietro, ma se torno al controller, vedete che non c'è più l'errore e dovrebbe funzionare tutto. Quindi, caso in cui il corso non esiste, caso in cui il corso c'è ma non hai scritti, se arrivo qua sotto ho una lista di studenti. Di nuovo, potremmo abbellire la lista, lo farò magari prima di fare il push, adesso per semplicità, se no magari non riusciamo a finire, stampo in modo un po' così. Quindi for studentes in studenti, txt risultato punto append text s più slash n. Alessandro dice, a me il metodo esiste corso is undefined for the type model. Controlla bene che tu l'abbia chiamato esattamente esiste corso. Probabilmente c'è qualche errorino di distrazione nel nome, credo, perché altrimenti non dovrebbe darti errore. Quindi in sostanza questo metodo, questo nome deve essere uguale esattamente a quello che c'è nel modello. O magari non hai salvato, come dice Mario. Lancio, vediamo se tutto funziona, speriamo. Ah no, ok, mi è rimasta la configurazione, stavo ancora lanciando questa classe qui, test DAO. Quindi torno sul main e lancio il main del programma. ecco qua. Allora, proviamo andare a recuperare il nostro solito corso, questo qui, il codice, e andarlo a mettere qua, e proviamo a stampare negli studenti. Sì, direi che ci siamo, sembra funzionare. Se noi proviamo un corso che non esiste, una stringa senza senso, dovrebbe dirci, guarda che il corso non esiste. E infatti il corso non esiste. Non ho pulito la textarea, ora lo faccio. Però non mi ha detto, il corso non ha iscritti, ma correttamente è andato a chiedere al database, c'è un corso con questo codice, e il database ha detto no, e quindi il corso non esiste. Fatemi pulire la textarea, all'inizio del metodo. E questo punto, al netto di migliorare poi un po' la stampa, è terminato. Domande? Chiudo un po' di cose, se no non ci capiamo più. Vediamo l'ultimo punto di questo esercizio allora, che forse è un po' più complicato, vedremo che ci sono due modi di risolverlo. No, ho aperto il file sbagliato, devo aprire il ritmo. Dato il codice di un corso, stampare la divisione degli studenti iscritti tra i vari corsi di studio. Se andiamo a vedere qui, ora questo corso ha studenti praticamente dallo stesso CDS, ma possono esserci dei corsi i cui studenti appartengono a corsi di studi differenti. Noi vogliamo allora stampare, dato questo corso, la divisione degli studenti in questi corsi di studio. Abbiamo due soluzioni. La prima addirittura ci permette di non passare dal database. Perché? Perché noi comunque questa roba qui, quindi l'elenco degli studenti, incluso il loro corso di studi, ce la siamo già andati a recuperare con il primo bottone. E allora perché non utilizzare il risultato che abbiamo ottenuto per dividere gli studenti lato codice. Ok? Quindi noi usiamo, potremmo usare questo metodo per recuperarci tutti gli studenti di un corso. E poi scorriamo questa lista, ad esempio, e andiamo a fare noi la divisione manuale. Questo ci permette addirittura di non scrivere nessun metodo del DAO per questo punto. Quindi qui potremmo direttamente risolvere questo metodo. Proviamoci. In questo caso chiamiamo get divisione cds dobbiamo ragionare sia sul valore di ritorno che sul parametro. Il parametro è sempre il codice. Abbiamo capito. Il codice del corso. Il valore di ritorno invece? Che cosa ci aspettiamo? Ok, ecco, Mario chiede cosa si intende per divisione degli studenti. Cosa ci aspettiamo? Allora, dato il corso con codice ABC io mi aspetto non una lista di studenti ma ma ad esempio gestionali ci sono 50 gestionali iscritti al corso ABC ma ci sono anche ora sto usando dei cds che non esistono mai solo per capirci ma ci sono anche 40 informatici e 30 meccanici quindi il corso ABC avrà 50 più 40 più 30 studenti che sono divisi in questo modo questo è comune soprattutto per i corsi opzionali no? I corsi a scelta dove appunto i corsi di studio degli studenti possono essere diversi. Lorenzo giustamente suggerisce un modo potrebbe essere di avere una mappa map string integer dove la chiave string è il cds il corso di studi e il valore integer è il numero di studenti di quel di quello specifico cds un altro metodo potrebbe essere avere invece una lista di oggetti di una classe che abbiamo creato apposta per contenere queste informazioni ad esempio una classe di divisione divisione cds dove la classe divisione cds sarà una classe temporanea che andremo a creare nel model che avrà due due campi una stringa e un intero c'è una soluzione migliore una soluzione peggiore non saprei forse questa soluzione potrebbe essere utile se noi volessimo ordinare i dati ad esempio se abbiamo bisogno invece di performance di accedere in modo veloce ai cds invece è meglio la mappa non c'è in questo caso sono due soluzioni equivalenti direi torniamo alla mappa perché così avanziamo di scrivere una ulteriore una ulteriore classe quindi creiamoci questa mappa intanto abbiamo capito che possiamo subito recuperarci questi dati string integer divisione o si divisione va bene uguale new hash map di string integer importo perfetto allora dobbiamo recuperarci innanzitutto gli studenti beh ma questo possiamo farlo grazie a questo metodo e allora list studente studenti andiamo a riutilizzare il metodo che abbiamo fatto prima dis punto get studenti by corso conge poi l'idea è scorriamo questi studenti e andiamo a vedere nella mappa se quel cds c'è già andiamo semplicemente ad incrementarne il valore se quel cds non c'è ancora quindi è il primo studente di quel cds che incontriamo andiamo a creare la coppia e impostiamo il valore a 1 è chiaro come meccanismo quindi if la mia mappa divisione punto get s punto get cds se è uguale a null vuol dire che il cds dello studente che sto verificando non è ancora presente nella mappa e beh allora creo la coppia per per questo cds quindi divisione punto put s punto get cds e valore 1 lo studente che sto guardando adesso è il primo che incontro di quel cds altrimenti vuol dire che ne avevo già incontrati prima di questi studenti allora vado semplicemente ad incrementare il valore di questo cds divisione punto put di s punto get cds vado a sovrascriverne il valore con che valore? con quello che c'era prima più 1 quindi devo di nuovo recuperare dalla mappa quello che c'era prima divisione punto get s punto get cds e poi ci aggiungo 1 è chiaro il procedimento? no è abbastanza è abbastanza intuitivo alla fine del for return divisione vedete me la sono cavata con quello che avevo già scritto prima non scendiamo fino al dao facciamo tutto internamente posso salire vado al controller e qui il controllo dell'errore e dell'input è sempre uguale a prima quindi lo copio anche qui andiamo a vedere se questo corso esiste oppure no copio command g e command d a questo punto il modello mi ritornerà una mappa di string integer divisione uguale model punto get divisione cds codice e poi vado a stampare questa mappa e quindi for string cds in divisione punto keyset vado a prendermi tutte le chiavi quindi tutti i cds che sono presenti nella mappa ok stampo txt risultato punto append text cds più uno spazio anche qui migliorerò la stampa prima di caricarlo e poi vado a prendere dalla mappa il valore di quella chiave quindi txt risultato vabbè lo posso fare direttamente qui dentro ci concateno il valore quindi divisione punto get di cds di cds più vado a capo slash n è chiaro proviamolo lancio vado a recuperarmi il solito non questo magari perché a tutti tutti i studenti dello stesso cds prendiamone un altro boh bella domanda non so se scopriamo questo magari un corso a scelta la mia finestrella è qui stampiamo prima gli studenti funziona divisione studenti ok abbiamo boh questa sigla che non so a cosa si riferisca supponiamo meccanici e questa ai gestionali quindi 42 gestionali e un meccanico sembra funzionare ne provo ancora uno al volo perché volevo farvi vedere un problema che ha ancora la nostra soluzione trovo un altro codice no vediamo se se lo trovo poi faccio vedere di nuovo la logica eccolo qua il problema vedete questo questo corso ha questa certa divisione e poi c'è uno studente che è lì spaiato senza nessun cds davanti questo mi lascia pensare che probabilmente nel db ci sono dei dati incompleti ci sono studenti non associati a un cds è un po' brutto vedere questa cosa magari questi studenti ad esempio potremmo toglierli dalla stampa come facciamo in questo modo vi faccio anche rispondo anche alla domanda di Mario che chiede di rivedere la logica eccola qui potremmo dire potremmo implementare la nostra logica solo se il cds è diverso da null quindi if s.getcds diverso da null faccio la logica altrimenti è come se scartassi quello studente perché non è associato a un corso di studio ok provo a rilanciare mi copio solo il codice che abbiamo provato rilancio inserisco no non è ancora così probabilmente il campo non è null ma è esatto come dice Giovanni è stringa vuota quindi and s.getcds punto equals and not ovviamente scusate ho fatto pasticci not s.getcds punto equals stringa vuota vediamo rilancio e adesso funziona mi ha tolto quella quello studente senza senza cds ok questa era la soluzione 1 ci sono altre soluzioni sicuramente sì e questa dualità la vedremo spesso soprattutto quando andremo poi a parlare di grafi andremo a costruire grafi dopo Pasqua la soluzione 1 si basa su codice che scriviamo noi codice che abbiamo scritto qui nel modello commentiamola edit non mi ricordo mai dove il il la possibilità di commentare tutto vabbè la commentiamo così a mano diciamo prima alessio chiede qual era il corso per fare la prova ce lo dovremmo avere ancora qui questo qui 0 1 o v y pg dicevo questa era la soluzione 1 basata sul nostro codice alessandro chiede ancora di mostrare un attimo il controller eccolo qui nel mentre spiego la soluzione 2 è quella di invece passare dal database quindi chiedo direttamente al database di darmi questa divisione e questa dualità vi dicevo la incontreremo molto spesso nel nel proseguio cosa è meglio cosa è sbagliato sicuramente tutto quello che riusciamo a far fare al database è tutto di guadagnato perché per due motivi il primo motivo è che se noi facciamo usiamo questa soluzione dobbiamo scrivere molte più linee di codice e più linee di codice scriviamo più è probabile che noi inseriamo anche degli errori ok quindi più codice scriviamo più è probabile fare errori secondo motivo questioni di performance tutto quello che riusciamo a far fare al database è molto più veloce ok perché il database è proprio ottimizzato per fare questi calcoli queste ricerche vedremo addirittura che questa differenza sarà sostanziale cioè ci saranno dei casi quando andremo a creare dei grafi molto grandi in cui la soluzione 1 quella per cui facciamo tutto internamente non porterà il programma a terminare mentre se quando passeremo dal database vedremo che invece il grafo si creerà in un tempo ragionevole Enrico dice scusi a me stampa nulli invece del numero di studenti non lo so probabilmente è un errore c'è un errore da qualche parte andiamo avanti perché altri mesi non riusciamo a finire poi se non riesce a risolvere appunto sono i contatti dopo la lezione quindi dicevo proviamo a farci dare direttamente questa divisione dal database allora dobbiamo fare una query un po' più complicata che ci ritorni la divisione direttamente quindi cancello che cosa ritornerà questa select due informazioni il corso di studi una serie di due informazioni il corso di studi e il numero di studenti una serie di righe con queste due colonne quindi avremo il cds che andremo a prendere dalla tabella studenti s e poi la somma dei degli studenti appartenenti a quel determinato corso di studi quindi avremo bisogno di una funzione di aggregazione count asterisco as tot dicevamo non ci basta la tabella studente perché noi dobbiamo contare quanti studenti sono iscritti a quel corso il corso che passeremo come parametro quindi sicuramente anche qui ci vorrà la tabella iscrizione i no where beh avremo la clausola di join s.matricola uguale i.matricola and il corso sarà quello che ci passa l'utente i.codings uguale in eclipse avremo il punto interrogativo qui avremo un codice e se proprio vogliamo anche farci escludere quegli studenti che non sono associati a nessun cds che abbiamo fatto con quel controllo diverso da null diverso da stringa vuota lo possiamo anche fare direttamente qua dentro and s.cds diverso dalla stringa vuota dobbiamo aggiungere dei caratteri per fare l'escape del dei doppi apici forse solo in eclipse qui dovrebbe funzionare lo stesso abbiamo usato la funzione di aggregazione quindi ci vuole la group by per cosa aggruppiamo e ovviamente per s.cds proviamo un po' lanciare questa query c'è un errore ah ho sbagliato a scrivere la tabella iscrizione ho sbagliato anche matricola funziona vedete mi restituisce in automatico il database la stessa mappa che avevamo che avevamo prima Giuseppe chiede se nel metodo get divisione cds presente nel model al posto di riscrivere sopra l'integer presente nella mappa lavoriamo sull'oggetto integer che vi è già all'interno il risultato dovrebbe essere lo stesso non ho capito cosa intendi sì l'importante è sovrascrivere il risultato aumentato di uno e questo credo sia l'unico modo non lo so magari ci sono modi alternativi che al momento mi sfuggono però questo mi sembra il modo più più veloce e intuitivo ok questa funziona la copio torno di qua abbiamo ancora 5 minuti dovremmo farcela vado nel dao a questo punto perché sì adesso passiamo dal database quindi abbiamo bisogno di un metodo aggiuntivo metodo che ritornerà la stessa mappa che c'eravamo calcolati prima ma ce la ritornerà il dao map string integer get divisione studenti dato che cosa dato un corso solito pattern mi scuserete se vado un po' più veloce string sql uguale incollo quello che avevo nel client tolgo gli slashen lascio lo spazio tolgo lo slashen spazio punto e virgola tolgo il parametro e ci metto il punto interrogativo poi avrò la mia mappa che in questo caso conterrà risultati result ok e il solito pattern quindi il try catch try il copio il catch con return alla fine ops sì no c'è una parentesi di troppo e dentro il try catch queste quattro righe al solito sono sempre le stesse perché passiamo sempre lo stesso parametro ok adesso sì che abbiamo un while ci aspettiamo una serie di righe almeno una ma potenzialmente più di una e qui andiamo a riempire la nostra mappa quindi result punto put qual è la chiave il cds rs punto get string cds il nome della colonna qui che estraggo e come valore tot è un numero quindi rs punto get int tot chiudo tutto rs punto close st punto close con punto close e siamo a posto sono andato un po' veloce ma poi lo potete anche vedere sulle soluzioni farò il push subito dopo la la lezione e quindi adesso passiamo al model e qui al posto di scrivere tutto questo codice scriviamo semplicemente corso dao punto get divisione studenti new corso codice il nostro oggetto temporaneo null 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 quindi una sola riga di codice che sostituisce tutte queste è vero qui abbiamo scritto del codice nuovo ma è del codice standard dove è difficile fare errori perché questi metodi sono sempre tutti uguali è molto più difficile fare errori qui ok in una logica applicativa che dobbiamo inventarci da zero lancio il programma e poi è più veloce su questo non c'è dubbio mettiamo un codice di solito eccolo qua la mappa è la stessa ovviamente però quello che abbiamo fatto mi fa anche capire l'ulteriore vantaggio del pattern model view controller noi abbiamo cambiato di tutto qua sotto abbiamo cambiato il modello il dao eccetera il controller è rimasto sempre lo stesso non abbiamo dovuto toccare niente sul controller questo vuol dire che abbiamo disaccoppiato bene i concetti relativi all'interfaccia grafica da quelli relativi alla logica applicativa la rachese posso tornare al dao certamente eccolo qua si sono andato un po' più veloce se avete domande altrimenti possiamo quasi chiudere una domanda se c'è tempo ovviamente sì mi può spiegare perché usiamo dei corsi temporanei codice null null perché usiamo questo pattern ma così per farvi vedere un approccio alternativo passare direttamente il codice del corso visto che noi vogliamo la divisione studenti partendo da un corso forse è più leggibile se il parametro sia sia di tipo corso si capisce di più forse e allora per usare questo tipo di parametro possiamo avere questo trucchetto di creare questi oggetti temporanei riempiti solo con le informazioni di cui abbiamo bisogno ma nulla vieta di avere un parametro tipo stringa e funziona tutto benissimo e va bene allo stesso modo Mario chiede non sarebbe meglio un select distinct direi che superfluo in distinct in questo caso perché andiamo a fare il raggruppamento e quindi direi che non serve in questo caso la domanda è mettiamo solo il codice nel campo nell'oggetto corso temporaneo perché equals confronta per codice no qui è solamente creato per recuperarsi il codice non facciamo nessuna equals qui non confrontiamo nessun corso quindi se qui avessimo avuto bisogno del nome del corso nulla vietava di crearsi un oggetto temporaneo corso dove il codice era null ma il nome era riempito ok perché qui non andiamo a fare nessuna equals è solo un modo per wrappare l'attributo che ci serve in un oggetto corso però di nuovo se questo vi crea confusione va benissimo utilizzare string codice e usare il codice va bene allora stoppo la registrazione la registrazione